salve brava gente eccoci qua ritrovati su destra l'empire e oggi è un po di tempo però un unboxing di un giocatore appena arrivato perché ultimamente fatto solamente video del osaka messe e comunque perché non l'ha vista e che gli interessano le macchine quale tarocche giapponese esagerate la tamarri e ho fatto una sto mettendo in onda una pletora di video che ho girato all'osaka automesse che è la più grande esposizione di macchine truccate che fanno qua in giappone e per gli accessori per truccare le macchine se siete interessati dateci un'occhiata ok ma finisce lì l'argomento e oggi passiamo alla protagonista di oggi perché è un robot femminile e parliamo di night bird l'uccello notturno però un robot femminile e se non voglio fare battuta dopo senso però se cominciate a farle vabbè fa mica niente ok benissimo e vediamo mp 55 night bird shadow è destro ninja e ci siamo night bird io lo sapevo shadow non lo sapevo naito vado e non ricordo quella giapponese ma shadow va dove cacchio arriva non lo so però è night bird shadow questi nomi che veramente tutti belli tutti belli attaccati che non so se pronunciarlo tutto di fila si fa tre o quattro tagli nella lingua ok andiamo vediamo questa bella nostra macchina futuristica che non c'entra un cazzo con night bird perché come gli appassionati di transformer sanno era un robot costruito da uno scienziato giapponese che poi viene catturato dai distruttori che grazie alle mani di bombshell lo trasformano in un robot che combatte al fiacco di distrutto ed è sempre stato solamente un robot punto e basta non si è mai anche perché è stato progettato da uno scienziato terrestre degli anni ottanta per cui è difficile che si trasformasse però ormai siamo ai livelli che anche un masterpiece ti usano le stesse stampi che hanno per altre robe e takara takara io takara la difendo quasi sempre però usare gli stessi stampi quando parliamo di masterpiece siamo un po furbacchioni è andato praticamente a usare lo stampo di arsi tanto è un robot femminile ha le tette un po cadente ah io non mi faccio questi problemi anzi ho visto veramente sul web ma ma le tette di arsi sono alte sono basse ma chi cazzo se ne frega comunque un robot voglio dire è un robot delle sembianze femminili ma con queste storie qua voglio dire dove vanno messi certi attributi c'è la gente che si fa le paranoie mentali per queste cose qua a un certo punto di vista non c'è veramente niente da fare sicuramente scusate con tutto il rispetto ma è comunque beh perché è un robot femminile e altri masterpiece di robot femminili fatti probabilmente solamente arsi perché hanno usato lo stesso stampo per cui si trasforma se abbiamo qua il nostro night bird come viso è praticamente uguale a quello originale tante cose eccetera 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 bello così dai vediamo 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 con quella scatola anche qua di fianco abbiamo night bird in versione robot qua è night bird transformer night bird shadow poi vediamo la versione qua in macchina poi abbiamo questo bel cartoncino tipico del masterpiece giriamo e abbiamo queste belle scritte belle fitte che per un prespite come me ormai per leggere deve avere il mega lentone di ingrandimento però non si riesce a capire più un cazzo che la misere ragazzi è brutto mettere sugli anni per il quale quelle poche persone una o due che vedranno questo video che hanno meno di 40 anni godetevi di ancora i vostri anni da giovani e fate quello che volete fare perché poi passati 40 45 ci si indebolisce e la vista è quello che si è diciamo è quella più fastidiosa almeno dal mio punto di vista comunque vediamo chi ha un sacco di armi a disposizione le varie armi ninja abbiamo abbiamo pose che fanno venire in mente cose altre cose ma lasciamo perdere vari armamenti abbiamo anche gli shuriken poi abbiamo una marea di armamenti dentro per la scatolina piccolina eccetera e comunque anzi vi devo dire dall'inizio e questo è un unboxing per cui oggi la vediamo in versione macchine basta poi la trasformo subito la settimana prossima perché lo voglio anche io vedere in versione robot ma oggi non c'è tantissimo tempo per cui perdonate oggi faccio un unboxing e per prima cosa è veramente un peso super leggero stiamo parlando se vogliamo mettere in scala di boxing neanche un peso più ma è un peso minimo i pesi minimi che sono quei pesi sotto i 48 kg che possono fargli possono fare solamente gli asiatici onoressici ecco ma siamo veramente a quei livelli peso minimo di boxing perché veramente per le iper leggero ok ho già parlato troppo e per cui diciamo che possiamo procedere anche ad aprire la scatola dove l'apriamo l'apriamo beh asso direbbe la si apre dal di dietro però non so qual è il di dietro la piavola da qua dai 50 kg sono Grazie. E allora, allora, adesso andiamo a gustarci la nostra Nightbird, eccola qua, ma prima di venireci Nightbird, vediamoci tutti gli accessori, come accessori? Abbiamo dentro, per prima cosa, questo bellissimo libretto di istruzioni, che è bello tosto, è bello spesso, Nightbird Shadow, e poi Starscar e Nightbird Shadow, tutte le spiegazioni, abbiamo, lo apriamo, e lo richiudiamo, eccetera, vediamo tutte queste illustrazioni qua, e là, eccetera, abbiamo tutta la nostra spiegazione di come impugnare i vari armamenti, qua può essere utile, e poi abbiamo questi cazzottissimi libretti, che si aprono così, tipo poster, se no non è una spaccatura piccola, eeeh, va beh, ok, va benissimo, ok, abbiamo capito, vedete, l'avete aperto, e poi vi guardate il video di Egmo per trasformarlo, siamo capiti? Ok. No, perché poi so che alla fine è finire così, e poi abbiamo la nostra Tech Spec Card, no? Con Nightbird, in versione robot, in versione macchina, mi sembra un'illustrazione di Soryama, se non sbaglio, che era un illustratore che faceva tutti i disegni di donne robotiche ad aerografo, quando faceva ancora, cioè, faceva ancora le superiori, per cui parliamo di miliardi di anni fa, che faceva questo Soryama, faceva le donne robotiche, come illustrazione per la pubblicità dell'auto bianchi, se qualcuno è vecchio bacucco come sottoscritto, magari magari gli viene in mente, lo lasciamo perdere, e vediamo che tutte le Tech Spec Card, tutte le voci, no? Intelligenza 4, e che è scema Nightbird? No, non è scema, il fatto è che non aveva una personalità sua, se vogliamo. Velocità e coraggio 9, posizione e grado 4, e per forza, cioè è messo fuori solamente in una puntata. Ok, va bene, dai, comunque abbiamo la nostra Tech Spec Card, per chi le colleziona tutte, e adesso andiamo a vederci i nostri vari accessori, no? Abbiamo come accessori, varie robe, che sono i vari Effect Parts, che sono bene, ben tre, poi abbiamo questa roba qua che non so cos'è, non me lo chiedete, abbiamo i nostri due Shuriken, vi dico che per ogni arma ne abbiamo due quasi, sempre due paia di armamenti, è una cosa che ci fa molto comoda, l'unica cosa che abbiamo un armamento solo è per queste armi da fuoco, che sono una pistola e l'altro che sembra un blaster che viene da Guerre Stellare. Una pistola, è quello che ho detto all'inglese, laser rifle, no? Quello che in mezzo sarebbe la carabina laser, ecco, come grandezza se vogliamo. E poi per gli altri armamenti ne abbiamo due 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 due, che sono, abbiamo i nostri kunai da verla brava ninja, che sono due, in questa plastica molto anche bella, trasparente gialla. Poi abbiamo queste due belle light saver, e qua veramente sembra di entrare nel mondo di Gundam. E poi abbiamo questi armamenti che sono abbastanza indecifrabili, perché sembrano, visti così, sembrano due spadoni, però hanno la parte dell'impugnatura, eccetera, che sembra un fucile laser. Per cui sembrano due mega baionette, se vogliamo, eccetera. Non saprei come descriverle, però ci sono. E poi a questo mi sono dimenticato di metterlo nelle video in giapponese, ma c'è anche la faccia alternativa. Come vedete, c'è praticamente la bocca aperta, e per fortuna che non ha un'espressione robotica non sexy, perché se uno penserebbe ad altre cose, ma mi fermo qua. Non vorrei essere radiato. Vabbè, non ti radia per queste cose qua, penso YouTube. E andiamo avanti. Adesso ci vediamo la nostra Nightbird. E allora brava gente, passare direttamente a vederci la nostra amata Nightbird, la nostra amata uccella notturna. E vedi, eccola qua, eccola qua. Anzi, Nightbird Shadow! Perché se no ci dimentichiamo l'ultima parte dell'uomo e non va bene. Io è tutto, non so, tutta ieri che vado avanti, non so, nella testa, e continuo a confondere questa, il design con la pussichetta, quella di Penelope, nella corsa più pazza del mondo, non so come si chiamavano, nelle Orecures, e invece oggi sono andato a vedere il design e non c'entra veramente un cazzo. Non so perché ogni tanto questi flash assurdi, e l'età, e la sclerosi galoppante, scusate. Il design, no, è veramente molto molto bello. Su questo c'è poco da dire. È una macchina, come dicevo, fantascientifica che sembra progettata negli anni, negli anni settanta, fino agli anni settanta, eccetera, molto molto bella. C'è veramente su questo poco da dire. Poi alla fine non lo girellerò, però veramente poco da dire. E anche la colorazione molto ben fatta. Vediamo che anche qua ci sono i fanari anteriori che sono veramente piccolini, ma ben fatti. Poi abbiamo anche qua, da Bravo Masterpiece, anche tutto il volante con i vari indicatori che sono fatti bene. Se vedete il volante, però non ti sembra veramente una macchina fantascientifica, ma ti sembra il volante veramente di una macchina degli anni ottanta. Però va bene lo stesso. No, vabbè, ma va benissimo, mi piace anche come volante. Questi bei sedi di porpola. Se lo giriamo da dietro... Sembra una ragazzina che si copre le parti importanti. Però le parti importanti sono qua, eh. No, vabbè, ok. Diciamo che basta non guardare la parte qua dietro perché ti fa capire che effettivamente è un qualcosa di trasformabile. Ma se tu non lo capovolgi, non guardi e non metti in imbarazzo questa donna pudica, non hai problemi. C'è anche una cosa, parlando seriamente, da dire che le gomme e le ruote sono estremamente sottili, però si muovono, per cui se qualcuno, come il nostro amico Otafa, si diverte a fare così, può farlo tranquillamente, a rollare può farlo tranquillamente. Sono in plastica, plasticaccia se vogliamo. E adesso, per curiosità, prima di passare a fare un... a parlare di materiali di questo Nightbird, vediamo se possiamo metterci qualcuno su questi sedili. Questi sono gli Headmaster... non gli Headmaster, scusate... Comunque, i due... la coppia, uomo e donna che... pilota, che sono... Overlord, nella versione di... di coso... del Mastermind Creation. Se non sbaglio erano Mega o Giga e Giga. Adesso uno dice Mega e Giga, ti viene da pensare a un piano per gli smartphone. Vediamo se riesco a farlo entrare e non entra. Sarebbe come se vogliamo dimensioni giusto, ma fa fatica a sedersi. E allora, alla fine andiamo a prenderci i nostri... no? Da qua andiamo a prenderci i nostri Diaclon... E mettiamo i nostri Tia Nauti. Quali qui una volta mi sono sbagliato... ho scritto Micronauti sul sito di Diaclon in Italia. Sono andato avanti a farmi un culo che non finiva più. A sfottere... vi capisco anche però. I Micronauti erano un'altra cosa. Adesso vediamo... provo a farlo sedere... se si siede... ma si siede o non si siede lei? Beh, in qualche modo si è seduto. Sì, è un po' sproporz... insomma, in qualche modo si è seduto. Diciamo... ah, qua si muove anche il vetro, se vogliamo. Adesso me ne sono accorto adesso. Questi sono un po' troppo piccoli i Tia Nauti, se vogliamo. Ci vorrebbe la misura di mezzo. Comunque, sappiamo che se vogliamo farci sedere qualcuno... lo possiamo fare. Adesso... c'è questo bello simbolo di distruttore che se tutto schiacci e si gira... viene fuori il colore dell'autorobot e il colore della macchina anche cambia e diventa bianco e porpora. Se da solo mainarsi... sarebbe un rapporto qualità-prezzo devastante. Non è così. A me non me ne fregerebbe un cazzo perché compro solamente il distruttore. E... comunque... tornando a discorsi seri. Materiali. Purtroppo questa è un po' la nota dolente. Non gli do un voto perché questo è un unboxing e basta. Però... ragazzi è leggero. E anche preso in mano non è solamente leggero ma si sente che i materiali sono eccelsi. Le ruote veramente sembrano da giocattolo, da bancherella eh. E io che sono uno che difende Takara a spada quasi tratta. Però difende quasi sempre Takara. Però sono... va detto oggettivamente. La molde è molto bella. Ragazzi la figura... insomma... plastica forse un attimino più pesante. Un attimino non so... più appagante sarebbe stato meglio. Sarà un'impressione mia scusate. Adesso la confrontiamo con altri masterpiece della sua dimensione. E... la confrontiamo con i miei adoratissimi Stunticons. O quelli che in Giappone vengono detti Stuntoron. E i miei due preferiti che sono Breakdown e Dragstrip. Perché la mia macchina da strada preferita in assoluto di tutti i tempi è la Lamborghini Countach. E la mia Formula 1 preferita di tutti i tempi è la Tirer P34. Per cui... per quello adoro anche gli Stuntico in una maniera pazzesca. Questi sono quelli due della X-Transbot. E vediamo che come dimensioni ci siamo. Sono le dimensioni quelle giuste. Se poi poi lo vogliamo mettere poi a confronto con Breakdown è praticamente uguale come dimensione. E la Dragstrip è un po' più lunga. Dragstrip è una Formula 1... Il problema è che come anche in definizione visto così... Beh questo Breakdown, voi lo conoscete, è stato buttato fuori e costava veramente un cazzo. Te lo tiravano dietro, eh. Però come definizione nei particolari eccetera... Questo... questo Nightbird mi sembra fatto decisamente meglio come... Scusate me... Accuratezza nei particolari. Questo Breakdown ha qualche sbavatura. Però... I materiali presi in mano e tutta un'altra cosa. Adesso però... Mettiamo... Nero su bianco e ripesiamo. Punta e basta. Vediamo che... Il nostro Nightbird quanto pesa... Si parla di 112 grammi. Per un qualcosa... Mi sono dimenticato di farlo per la versione giapponese, porcaccia. Che sono 14 centimetri. E adesso vediamo invece, per esempio, il nostro Dragstrip. Dragstrip... Sono 182 grammi. Direte, ma Dragstrip è più lungo. Allora vediamo... Il nostro Breakdown. Sono 195 grammi. Per cui la differenza di peso è notevole. E tra l'altro, ricordiamoci che... Cioè, ricordiamoci che il nostro Nightbird c'ha pure sul Dianauta. Comunque sono 112 grammi. Per cui, insomma, secondo me è un po' leggerino. Takara avrebbe dovuto... Ma magari forse usare altri materiali. Non lo so. Adesso lo girelliamo. E poi, la prossima volta... Comunque fra poco, eh. Perché voglio trasformarlo a vedere com'è. E... Lo vediamo in versione robot. Questo è il Nightbird dell'Impossible Toys. Scusate perché si sa questa posa da coglione. Speravo di riuscire a mettercelo sopra. Ma è praticamente impossibile. No, vabbè, ci sta. Sembra un bambino che gioca con la sua macchinina. E il Dianauta che sopra, che viene completamente schiacciato sotto le... Sotto la... La zona importante di Nightbird dell'Impossible Toys. E... Comunque dicevo... Adesso... E' l'unico Nightbird in versione Masterpiece. Per cui è sicuramente un... Acquisto obbligato. Anche se... Anche se... Rispetto a questo qua dell'Impossible Toys. Che non si trasforma e solamente robot. Non è tanto fedele all'originale. Questo no. L'hanno usato un'altra molde che c'era già in giro. Però... Vabbè. Possiamo comprare solamente questo noi. Dai, lo giriamo. E ci vediamo i prossimi video. Brava gente. Grazie della visione. Dov'è finito il... Eccolo qua. E ci vediamo ai prossimi video. Grazie. Ciao ciao a tutti. È solo Girello e ci vediamo. Ciao. 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 Ciao.